Riapperta al transito da ieri la SS 18 Tirrenia Inferiore, chiusa dallo scorso 17 agosto. Nella giornata di ieri l'ANAS ha firmato l'ordinanza che confermava la riapertura dopo che, nelle scorse ore, a causa del maltempo, nonostante il regolare completamento dei lavori, era stata ulteriormente posticipata. La riapertura del tratto di strada era stata inizialmente prevista per lunedì scorso, dopo le verifiche effettuate dai tecnici dell'ANAS sul posto, a seguito alla consegna dei lavori effettuati nel corso delle ultime settimane, con interventi di disgaggio dei massi risultati pericolanti a causa del vasto incendio verificatosi lo scorso 17 agosto sulla montagna che sovrasta l'arteria stradale. Le fiamme avevano distrutto gran parte della vegetazione, rendendo anche fragile la montagna con la caduta massi sulla strada, che peraltro, nel periodo in cui si è sviluppato l'incendio, risultava particolarmente trafficata, essendo in atto il periodo di turismo balneare presso le località collegate dall'arteria. Da ciò lo stop al transito, con notevole disagio per turisti e cittadini. L'incontro in prefettura dello scorso 8 settembre è stato utile a definire gli interventi da effettuare per la messa in sicurezza dell'area, che sono stati realizzati nei tempi stabiliti di 30 giorni. Consegnati i lavori lo scorso 9 ottobre, si attendeva solo l'ok dall'ANAS per ripristinare il transito sull'arteria. Autorizzazione è arrivata ieri con l'ANAS, che ha reso noto come, dopo il sopralluogo effettuato nella mattinata di sabato, si è reso necessario un'ulteriore verifica sul posto a causa delle intense piogge che si erano registrate nei giorni di domenica e lunedì. Il sopralluogo tecnico comunale, che ha confermato la sussistenza delle condizioni di sicurezza sul versante attigua alla SS18, spiegano si è reso necessario a seguito delle condizioni meteo avverse che, tra la giornata di domenica e lunedì, avevano causato la caduta di ulteriore materiale sul piano viabile. I tecnici dell'ANAS inoltre hanno effettuato anche ulteriori interventi di riparazione del piano viabile e di alcune opere di protezione e sicurezza con sostituzione anche delle barriere danneggiate dalla caduta dei massi durante le operazioni di disgaggio.